Anche nell'implementazione dei servizi di prevenzione fondamentali nella lotta contro il cancro c'è la mano del PNRR Salute. E con i fondi del piano di ripresa e resilienza, infatti, che l'azienda sanitaria regionale del Molise ha acquistato sette mammografi, sei già in funzione, l'ultimo in fase di allestimento a Venafro. Ulteriore tassello, il rafforzamento della sinergia con la Lilt. Alla presenza delle presidenti provinciali Franchele Di Pardo, del presidente onorario della Lega di Campobasso Fabrizio, il DG Giovanni Di Santo ha consegnato al coordinatore regionale dell'associazione Mario Pietracupa le chiave di un camper di proprietà dell'ASREM che la Lilt potrà utilizzare gratis. Nuove sfide, nuovi traguardi possibili per un rapporto di collaborazione già ben rodato. Dobbiamo ringraziare l'ASREM che è sempre disponibile a collaborare con noi, anzi siamo noi che collaboriamo con loro, perché tutte le campagne vengono concordate e sono sempre di grande efficacia anche dal punto di vista della comunicazione. Anche lo scorso anno abbiamo fatto la stessa cosa e siamo riusciti addirittura a monitorare oltre 1200 persone. Questi sono numeri che probabilmente non risultano nemmeno poi nella banca dati, quindi a volte esigilamenta insomma del fatto che ci sia una scarsa attenzione alla prevenzione, ma così non è. Avete contribuito di fatto anche alla riduzione dei tempi d'attesa in un settore in cui erano elevatissime, proprio quello della prevenzione oncologica. Sì, sicuramente, ma questo è il nostro interesse, insomma, ridurre i tempi d'attesa e anche sensibilizzare il cittadino alla prevenzione, perché la prevenzione credo che sia il farmaco più efficace e più economico che attualmente ci sia sul mercato. Se si arriva per tempo si può combattere il tumore e quindi questa è la nostra battaglia quotidiana.